Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione della Procura della Repubblica Partenopea, ha devoluto in beneficenza circa 5.000 paia di scarpe per la collettività ad istituzioni ed associazioni no profit delle province di Napoli e Salerno. Gli articoli erano stati sequestrati lo scorso mese di febbraio durante le operazioni di arresto nel quartiere La Maddalena del capoluogo, di un 48enne di origine cinese, per un tentativo di corruzione operato nei confronti dei finanzieri che stavano procedendo ad un controllo anti-contraffazione nei suoi confronti. In particolare i capi di vestiario sequestrati erano stati rinvenuti in uno stato di semilavorazione, atteso che l'intervento delle fiamme gialle aveva impedito la realizzazione dell'ultima fase del procedimento di contraffazione, ovvero la posizione del marchio falso sul prodotto. Le scarpe donate in beneficenza sono di buona fattura e pertanto sfruttabili a beneficio delle iniziative e opere di bene che la Caritas diocesana di Napoli e altri enti no profit delle province di Napoli e Salerno portano avanti a supporto di indigenti e soggetti in gravi difficoltà economiche. L'attività odierna testimonia l'attenzione della Guardia di Finanza anche per il sociale e assume anche un ulteriore valore emblematico in quanto ha permesso in stretta sinergia con l'autorità giudiziaria di destinare a opere di bene i frutti di attività illecite che danneggiano la libera concorrenza e l'imprenditoria sana, onesta e rispettosa delle regole del mercato.